Il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, ha inoltrato una nota al prefetto e alle forze dell'ordine sollecitando un'azione decisa di contrasto al fenomeno dei furti che sta interessando tutto il territorio cittadino. Sono cosciente degli organici ridotti delle forze dell'ordine, si legge nella missiva del primo cittadino, ma allo stesso tempo sono allarmato per le preoccupazioni dei cittadini. Nonostante sia fuori dalle nostre competenze, come comune abbiamo attivato al massimo i controlli degli agenti di polizia locale che stanno mettendo in campo un impegno straordinario al di là dei loro compiti. Ci siamo attivati comunque chiedendo uno sforzo ulteriore ai vigili urbani che seppure non abbiano competenza sui fatti si sono resi subito disponibili. C'è un'emergenza nella percezione dei cittadini, continua Cariello, così come è evidente un fastidio per certi episodi e in questa direzione dobbiamo operare tutti.